Ciao e bentornato a uno spavillante canale! Annalisa Superstar! Video Hask! Io pensavo che non mi interessasse in realtà ultimamente ho cominciato a ricevere sempre più insistentemente la richiesta di fare questo video ho provato, pensavo di ricevere tipo 30 50 domande invece, ciao sono Annalisa e mi sono confusa, ci sono circa 200 domande a cui rispondere quindi ne ho presa qualcuna Incominciamo a rispondere a queste domande Allora, Carmi Artist chiede, qual è la tua più grande paura? Io ho paura delle malattie terrorizzata non sono ipocondriaca ho paura delle malattie quelle serie il raffreddore, l'allergia l'infezione, ho paura delle malattie le malattie importanti L'anno B85, il tuo peggior difetto? Dimentico sono troppo distratta troppo sempre l'allergia 85 questo è interessante meglio una pizza o una strombazzata? una strombazzata di pizza allora, questa è una domanda leggo questa domanda che è molto breve ma in realtà tante mi hanno chiesto più o meno la stessa cosa quindi leggo lei e vale per tantissime altre persone Angela Giada Angela Giada Gaetano quanti siete? dunque, da dove prendi la tua forza, la tua voglia di fare? cerco spunto qui vicino la prendo perché praticamente un po' come tante altre mi hanno chiesto se non ho mai voglia di stare curicata nel divano e non fare niente no, non ho questa voglia e ho voglia di fare perché io mi sento tanta energia addosso e quindi siccome ho passato fin troppo tempo spalmata sul divano a sopravvivere piuttosto che vivere mi sono stancata tempo fa di non essere stanca e mi piace essere stanca perché ho fatto tanto e quindi viva la vita quando ho fatto il video su della noia io l'ho buttata un pochettino in cacciara a ridere perché secondo me è una campana meglio però ne pensaci la voglia di fare viene quando fai se stai sempre distesa a pensare che puoi fare qualche cosa o a dire guarda quello sto facendo io no non farai quindi prova a fare guarda l'unico limite sei tu punto io mi sono detta questo per quando mi sono data una svegliata mi sono detta ma cioè io sono il mio unico limite sì quando mi sono reso conto di riuscire a fare perché volevo fare mi sono detta che cretina cioè io mi sono mi sono frenata nel fare qualsiasi cosa per tanto tempo per pigrizia o per la non voglia di fare punto era questo in realtà sono oggetti molto facili Anna Rita con tante A 93 quanto ami viaggiare e scoprire nuovi posti e culture sei fantastica ti sembra un mezzo piacere ciao Anna Rita e beh beh mi piace certo se potessi lo farei sempre però allora mi piace sia andare all'estero ringraziando il cielo ho viaggiato in lungo e largo per l'Europa sono stati negli Stati Uniti diverse volte però mi piace tanto anche l'Italia forse un po' di più ma non per campanilismo perché siamo tanto uguali tanto quanto diversi e mi piace da impazzire che vado che vado io da qualche altra parte vedo che sono cose simili ma che vengono chiamate con un altro nome con una preparazione per esempio a livello culinario perché il cibo è cultura preparate in un altro modo o usanze tradizioni della tavola insomma oppure tradizioni religiose io studio etnologia anche per mio diretto cioè lo studio ancora per mio diretto per tanto tempo e quindi mi piace vedere certi usi e costumi proprio sociali mi piace anche in Sicilia stesso perché per quanto siamo simili vedo tante differenze e secondo me sono delle differenze straordinarie quindi mi piace ma mi piace sia a livello proprio locale che a livello un po' più globale Marianna Cina qual è la prima lezione che hai imparato nella vita? Baci Mari fatti i fatti tuoi non Mari la lezione fatti fatti i tuoi campi in cent'anni me li faccio ehi che è una cosa meravigliosa Mrs. Cockaway che è presente nel mio canale nei miei social da sempre lei è top ciao bidazza se vorresti vivere in un'altra epoca storica quale sarebbe perché? mi piacerebbe tantissimo vivere nel tardo romanticismo in Inghilterra perché apprezzo il romanticismo inglese per questo Mary Shelley che non è tardo romanticismo ma mi piace mi piace molto il romanticismo in inglese Sofia Simona mi fai talmente tanta simpatia e mi sembra quasi di esserti amica così tanto che ti inviterò al mio matrimonio ovviamente mi sposo a Palermo verresti certo dimmi dove e quando gli faccio prendere il vestito a mio marito gli stiro la camicia casa deliziosamente imperfetta chiede cosa cambieresti nella tua vita buh no niente niente va bene così mi sto da piatto serena federico sf complicato sta cosa chi è la persona che più ti comprende e ti sa ascoltare sei grande grazie per i tuoi fantastici video fiorellino cuoricini sole soresini allora guarda senti questa nessuno forse me stessa io ho smesso di aspettarmi cose dagli altri quindi abbassando decisamente l'aspettativa nel riguardo degli altri vivo molto più serenamente e mi ascolto io allora non è forse potrebbe essere anche egocentrismo però io veramente da quando ho abbassato le aspettative è una cosa che dico spesso nei video non ti aspettare niente degli altri la guerra la tua la vita è la tua nelle mail che ricevo lo scrivo spesso quando rispondo e dico non ti aspettare niente la vita è la tua non è degli altri così come la vita degli altri non è la tua non puoi prenderti responsabilità nella vita degli altri io mi ascolto da sola quando ho bisogno di parlare ho bisogno di sfogarmi ho delle amiche molto citate parlo con loro ma di base mi ascolto io la migliore consigliera di me stessa sono io anche le mie amiche non ci aspetta un attimo perché certe volte io perdo un po' la bussola devo essere sincera quindi mi lascio influenzare volentieri da chi mi vuole bene le mie amiche mio marito mia madre Patrick 1975 che è una farmacista per amica la trovi su youtube così cosa che ti fa arrabbiare tantissimo la bugia la bugia soprattutto quando è sgamabile la bugia è insopportabile le persone lost che devono dire la cretinata per forza per apparire migliore agli occhi della società no perché poi quando sei sgamato che hai detto la cretinata non è che appari tanto buono agli occhi della società appari bugiardo agli occhi della società e io sono la società vanity underscore 73 nei tuoi video sembra che tu abbia trovato un senso di equilibrio e di serenità ne sei sicura? sì ne sono molto sicura mi dispiace che venga messo in dubbio io ne sono molto sicura italina fly che è stra presente quindi ciao vitamina fly ciao andalisa cambieresti città per migliore la tua professione o per lavorare? allora guarda è una domanda alla quale io ho difficoltà a rispondere ti spiego pure perché dipende il periodo in cui viene posta ti potrei dire sì o ti potrei dire no io in questo momento ti dico non lo so allora anni fa io stavo andando ma da sola stavo lasciando filippo non essere andata da sola non volevo neanche lui non volevo andare totalmente da sola non io tra l'altro poi penso ecco questa è una domanda che viene posta diverse volte quindi rispondo in modo un po' più ampio a questa il problema non è Palermo secondo me che io amo la follia infatti sono a Palermo il problema secondo me è l'Italia quindi se io dovesse andare via da Palermo non andrei via da Palermo per andare in un'altra città italiana io andrei via da Palermo e andrei al nord Europa io tempo fa mi stavo per trasferire da sola io veramente stavo per sfasciare tutto me ne stavo andando da sola io volevo andare in in Svezia ho detto è una palermità in Svezia che connubio esilaranto non l'ho fatto per variati motivi ho deciso di rimanere qui volontariamente ed è stato molto complicato decidere di rimanere qua perché l'otto il triplo tutti i giorni perché non è facile Palermo come città te lo dico molto spassionatamente io la amo in modo viscerale io respiro Palermo io ho Palermo dentro di me io voglio stare a Palermo sono rimasta a Palermo per quanto io amo Palermo per quanto io amo la mia famiglia che ha influenzato un po' con la mia scelta per quanto io amo Filippo perché ricorda che io amo mio marito non dimentichiamolo questo però volevo andare via volevo andare via per svariati motivi prima fra tutto quello lavorativo no se sono a Palermo evidentemente Palermo mi ha trattenuta perché con i suoi difetti mi tiene troppo troppo legata qua la amo troppo gli occhi pieni di Palermo l'ho dentro sicuramente ovunque andrei nel mondo io avrei Palermo dentro io questo ne sono sicura perché io amo così tanto profondamente Palermo io amo Palermo e mio marito mio marito è Palermo meno male che mio marito è Palermo mi è venuto forte lasciare Palermo non tanto le persone io ho avuto difficoltà a lasciare Palermo che è un po' strano da dire Palermo per me è Palermo Palermo è in toccambia Palermo ha mille difetti attenzione io non dico Palermo è la città migliore del mondo Palermo ha mille difetti così come tutte le città del mondo secondo me hanno dei difetti io l'ho troppo dentro la Palermo I love Palermo e che ci fu Dada ad escormeri il tuo cibo preferito che mangeresti sempre in qualsiasi momento del giorno ciao Annalisa ti adoro ti adoro i tuoi video bacio io purtroppo adoro la pizza purtroppo è un problema è un problema serissimo io adoro la pizza bella piazza di mozzarella che mi devastano sto malissimo infatti non la faccio mettere più ma la pizza rispondo solo a una domanda di questo di questo carattere dopodiché sto prendendo tutte le domande inerenti al concetto venerdì ci sarà un diario di una secciona per bene sto stravolgendo i programmi perché sarebbe dovuto andare online in un altro diario però prendo spunto da tutte le domande che bene o male sono un pochettino simili però rispondo soltanto a una Dani76 strada facendo hai mai perso la scintilla nel percorso definitivo intento come hai fatto a riprenderla allora no la scintilla non se ne è mai andata perché è stata il mio monitor la mia motivazione ci sono stati cali bruschi di motivazione ci sono stati in momenti veramente complicati io ho sofferto tantissimo il fatto che io mi mostro sorridente e che voglia spronare gli altri a fare a sorridere non preclude il fatto che per me ci siano stati in momenti complicatissimi di grande sconforto però io ho sempre pensato è stato forse questo questa volta che mi ha tirato su che lo sconforto non doveva vincere questa volta quindi i miei momenti di sconforto e di sofferenza che io non ho volutamente condiviso perché sono molto intimi e privati perché la mia scintilla è una scintilla un po' particolare e non mi va di parlarne è una cosa che mi chiedono tantissimi io non rispondo mai perché è molto personale sì io ho avuto momenti valordi veramente in cui io stessa dicevo ma che sta succedendo è andata è andata ma mi sono motivata sempre da sola non ho cercato aiuto in nessuno perché mi sono resa conto che gli aiuti esterni erano troppo troppo deboli e incostanti soprattutto incostanti quindi aiutati chi è Dio ti aiuta e il riso fa buon sangue Cristina ciao Annalisa cosa non perdonesti mai a tuo marito cosa non può assolutamente mancare in un rapporto solito e duraturo ti seguo sempre l'ottopanale spacca bacioni ciao Cristina allora io allora aspetta rispondo alla seconda domanda perché si ricorda la paffè ci penso io cosa non può assolutamente mancare in un rapporto solito e duraturo se non c'è rispetto affetto non amore affetto io ti voglio bene nel senso io voglio il tuo bene e non c'è questo rispetto che implica anche la fiducia ne è inutile stare insieme no poi questo è quello che penso io per come mi sono sempre confortata con Filippo io sono arrivata a questa conclusione a 21 anni ecco la porta avanti ora argomento un po' meglio forse quindi io tendenzialmente non so rispondere alla prima domanda cosa non prendere a Filippo perché mi fido di mio marito mi fido talmente tanto che non so rispondere alla domanda cioè io penso che lui volontariamente non farebbe niente che mi facesse talmente tanto male da stroncarmi quindi lui mi ha fatto del male come io ho fatto del male a lui però sono stati dei dolori involontari quindi non non fatti con l'intenzione di massacrarti ecco quindi no non so cosa potrei perdonare a mio marito perché io probabilmente non dico che perdonerei un tradimento dipende che è il tradimento certo se mi tradisce come una Monica Bellucci c'ha ragione Stefania qual è stata la volta in cui ti sei sentita veramente felice il giorno in cui mi sono laureata Antonietta qual è la cosa la persona che proprio non sopporti ma in genere piace a tutti a me non non vorrei offendere nessuno a me non piacciono quelle troppo curicini e gattini e unicorni e fatine e via di scorre quelle un po' così non le persone un po' così non non riesco a fare molto pane ecco infatti non ho amiche così Enza come fai ad affrontare le male lingue del tubo poi vorrei che farsi una domanda un po' più frivola tra i quali marchi di make up medio e basso posto consigliassi occhi chiusi o mega bacio allora Deborah qualcosa di Deborah qualcosa di Pupa Smart Curative Essence L'Oreal L'Oreal ben o male tutto come faccio ad affrontare le male lingue del tubo guarda io ho capito una cosa che è una battaglia persa in partenza quindi io ho deciso di non affrontarle più punto perché è veramente una battaglia persa non ha cioè c'è gente che già ha deciso che io sono bugiarda cioè io nell'ordine secondo alcuni che parlano di me sono una bugiarda cronica e il reitero da anni e se sementoni e guarda lasciamo stare comunque non non le affronto perché c'è gente che già ha deciso e quindi io non posso affrontare gente che già ha deciso che io faccia schifo va bene secondo te faccio schifo ne prendo atto io già so mentre tu ancora dici che io faccio schifo io già sono arrivata là sotto la metto così tra tutti i tuoi viaggi qual è quello che ti ha deluso è perché Vienna non mi è piaciuta per niente no ma proprio non ho un bel ricordo di Vienna non ricordo niente che mi sia piaciuto di Vienna tra l'altro l'ho uncucciato pure scusa ho beccato ci ho assaggiato la Saker no? viennese in un locale straghigli fighissima elegante vera pietosa secca Vienna beh infatti non ho non lo dico mai essere stata in Austria io sono stata più di un periodo meglio lungo in Austria ma non mi è piaciuta quando pensi alla parola felice qual è la prima cosa che ti viene in mente? casa è con tutto quello che comporta casa Terry caro Annalisa come stai ad essere così fantasticamente scema? è un complimento top topissima adoro la tua ironia il modo in cui non ti prendi sul serio ma in realtà sì perché autostima è una sufficiente autostima il tuo segreto per ridere quasi tirare avanti ma guarda allora non mi prendo sul serio prendendomi sul serio credo che sia questa la cosa perché io stessa mi prendo per il culo alla mattina alla sera in video vedi veramente dei frammenti ma io rido di me io sai quante volte mi dico allora quando sono stata a Ragusa con Filippo io sono caduta sono caduta in un modo sono caduta lentamente cioè io se vuoi ti replico come sono caduta ma proprio mi sono fatta malissimo tra l'altro sangue nelle ginocchia sangue nel gomma ma sono caduta lentamente tra l'altro ho la camera in mano e sono caduta in questo modo per non fermare ma se Filippo mi ha guardato e mi ha guardato ma che sta facendo cosa inutile me lo sono ridendo me lo sono fatta uscire da tutti i poli io cambia ma sono una cosa inutile ma vedi è questa però allo stesso tempo io sono una persona consapevole di quello che so e quindi conosco i miei limiti e cerco di superare i miei limiti colmando con lo studio o con l'informazione quindi è questa la cosa che sono pure particolarmente confusa Federica con tutti i chili persi non hai avuto problemi di pelle in eccesso? sì certo ovvio ragazzi io ho perso una me obesa cioè l'equivalente di quello che per sé è un'altra analisa obesa sì certamente però se fai esercizio fisico riesci e perdi lentamente non in un anno un anno e mezzo lentamente che è il mio caso e chi dice il contrario non ne ha capito niente riesci ad attenuare il danno se fai anche un automassaggio non ti dico quotidiano ma molto costante atteni il danno se riesci a beccare la dieta giusta soprattutto riesci ad attenuare il danno se metti attività fisica che non è un'ossessione riesci ad attenuare il danno se non ti fissi di avere della pelle in eccesso nelle braccia e nell'interno coscia e oggi devo dire parte nell'addome anche se sono riuscita a tirare tra virgolette quella pelle ma c'è sempre e vivi lo stesso seneramente perché non è un problema salutare di avere la pelle in eccesso è semplicemente pelle in eccesso si va bene io ho pure le smagliature se ti interessa sono i miei cicatrici di guerra io non le voglio togliere le mie sbagliature sono io ero io sarò sempre io chi se ne può si ho la pelle in eccesso guarda ce l'ho qua nelle braccia è la parte più più antipatica ma ci sto bene o male riuscendo in modo molto lento la parte che è proprio non riesco l'interno coscia mi hanno detto che si deve intervenire con la chirurgia non lo so e più no allora non ho risposto a tutte quante le domande ma perché è venuto un video particolarmente è strepitosamente lungo io adesso lo dovrei pure montare devo trovare il tempo di montarlo ci sono tante domande alle quali io non ho volutamente risposto perché sono molto intime e private e non mi va assolutamente di parlare pubblicamente della mia vita privata poi ci sono delle domande che prenderò come spunto per fare ieri di una cicciona per bene questa settimana quindi venerdì era in programma un altro diario di una cicciona per bene però vi era accestinato e verrà messo online questo nuovo partendo proprio dalle domande spero di averti tenuto compagnia spero di spero che sia piaciuto questo video perché veramente mi è stato chiesto per tanto tempo e da tante persone quindi spero di avere fatto cosa gradita sarà venuto lunghissimo ci vediamo venerdì con il diario di una cicciona per bene partendo dalle domande che tante di voi hanno lasciato a questo Haska la superstar ciao e che le stelle siano un po' grazie a tutti